Dieci giorni per viaggiare in un passato che diventa base per il futuro, quasi due settimane alla scoperta del patrimonio archeologico di Canosa di Puglia nel nord barese per consentire a 30 persone, tra studenti iscritti alla facoltà di architettura, dottorandi, specializzanti, architetti e archeologi provenienti da varie università italiane di arricchire il loro sapere. Sono gli obiettivi del workshop e della scuola estiva di progettazione architettonica intitolati l'antico futuro a Canosa di Puglia, promossi dall'amministrazione comunale con la collaborazione della soprintendenza. Sono cinque le aree interessate, il Battistero di San Giovanni, la Basilica di San Leucio, l'area del Tempio di Giove Toro, gli Ipogei La Grassella Fullonica e i monumenti funerari della Via Traiana. L'attenzione sarà concentrata sui secoli della Romanità e del periodo paleocristiano. Durante i dieci giorni sono previste lexio magistralis, che saranno tenute da docenti provenienti da diversi Atene italiani, ma anche da Spagna e Portogallo, e permetteranno agli studenti di acquisire le modalità utili alla progettazione sperimentale sulle aree di studio. Parte integrante del workshop saranno propri laboratori di progettazione, finalizzati a sviluppare temi della tutela e della valorizzazione dei reperti archeologici, dell'accessibilità alle aree e all'esposizione dei reperti.